Penso che l'area C sia un provvedimento giusto. Assolutamente giusto e la gente deve cominciare a riprendere, andare a piedi in centro, abbandonando i mezzi. Sicuramente è importante per migliorare la qualità dell'area milanese. Io che sono mamma credo che questa sia una cosa fondamentale. Mi sembra che stiamo sulla strada giusta, ci sarà da vincere delle resistenze psicologiche, e abituarsi a muoversi in maniera diversa. Non è una tazza giusta, anche perché specialmente per coloro che abitano nella zona C, tornare a casa e pagare anche una tazza per ritornare a casa non credo sia giusto. Per il lavoro che faccio io è sbagliato perché non possiamo più entrare in centro se non pagando e ci ha portato via un bel po' di lavoro, perché noi entriamo in centro molte volte solo per fare preventivi e non possiamo più entrare. Dobbiamo scegliere mezzi alternativi come lo scooter e ci ha bloccato molto il lavoro noi. Serve solo fare cassa e non è organizzato bene perché siamo venuti adesso da qualche magagnetta che gli uffici non registrano, ad esempio le macchine che si sono acquistate due anni fa e non mi danno il permesso come residente. Credo, come tante altre opinioni che ho sentito dire in giro, che è un modo in più per fare tassa, perché se parliamo di ecologia, l'ecologia non funziona certamente attraverso questo mezzo, non è una risoluzione, sappiamo benissimo che il problema ecologico arriva da ben altro, per cui è una presa in giro. Mi sembra un po' eccessivo il costo, detto questo vedremo poi in questa prova dei 18 mesi che lo succederà.